Oggi mio fratello diciottenne sfiderà un gigante di quasi 100 kg, l'Ori. Dovranno affrontare tre sfide. La prima di potenza, con uno scatto di 60 metri. La seconda di forza. I ragazzi faranno 12 dip zavorrati. Luca con 20 kg, l'Ori con 50. E infine una di resistenza. Faranno 100 piegamenti mezzo ROM e 50 con movimento completo. Questo è un circuito preso in prestito dai Barbarians, uno dei gruppi calistenici più forti in assoluto. E secondo voi chi vincerà? Scrivetelo sotto nei commenti. Ora conosciamo meglio i partecipanti. Chi sei? Sono Luca, ho 18 anni e peso 65 kg. Da un paio di anni che mi alleno con pesi e a corpo libero. Qual è l'esercito che ti senti più forte? Penso i piegamenti. Nelle dip me le cavo e gli scatti non li ho mai provati. Cosa ne pensi di Lory? Vincerai? Stimo molto Lory, però oggi è mio nemico e quindi andrà a casa sconfitto. Ciao ragazzi, sono Lorenzo, ho 24 anni, peso 98 kg e pratico calistenics. Negli esercizi proposti del circuito, l'esercizio in cui mi sento sicuramente più forte sono i dips. Nonostante io alleni di solito le skills, però vedremo come andrà. Cosa ne pensi di Luca? Vincerai? Allora, ho avuto modo di allenarmi con Luca e devo dire che è veramente un ragazzo molto forte, molto preparato e nonostante la sua giovanissima età è sicuramente una bestia. Però io di sicuro darò il 100% di me stesso perché non voglio assolutamente tornare a casa sconfitto. Vedo molta competizione. Che abbia inizio la sfida. 3, 2, 1, boh! 3, 2, 1, boh! 3, 2, 1, boh! 100 mezzo rom, eh? 100 mezzo rom, eh? 100 mezzo rom, eh? Grazie per la visione! Non potete staccare le mani dalla parallela, mi raccomando. Come va, Lory? Oh, ma sta bene. Tu, Luco, come va? Tieni bene la schiena, eh, non inarcarla. Uff! 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 Grazie a te! Grazie a te! 100? Ok. Ti rimangono 50 full rom, Luca. Grazie a te! Grazie a te! Fai 95, fai 95. Ma prenditi un pochino di tempo che sennò l'acido lattico ti fotta, eh. Grazie a te! Grazie a te! Dove sei, Luca? Sono lì, eh. 15 contro 25. Sol Prof. Un bloco di tempo con il punto e 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 il punto dello è importante победare è pensando niente diplegarmi la payota, da quanto perのでce ad accogliere e dire che Quanto siete? Vai, 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 vai l'ultima Porca puttana Il diciottenne vince il gigante, il gigante verbanese Cazzo però, te la sei veramente giocata bene comunque Complimenti Grazie, grazie Zuma un pochino Si è fatto il bagno Sudato Fa caldissimo Guardate Io non riesco a muovere più di così, quindi ti saluto così E mi raccomando, se volete supportarmi e avete bisogno di integrazione e di abbigliamento Usate il codice MIC su Prozis per un 10% di sconto Stavolta ha vinto Luca Comunque non so se vi ricordate ma sia lui che Lori hanno fatto una trasformazione di 30 giorni Quindi andatela a vedere Qui c'è quella di Luca e qui c'è quella di Lori E non dimenticate anche di andare sui loro profili Instagram che trovate in descrizione Dai allora ci vediamo al prossimo video Se vi piace mettete un bel like e scrivete un commento Ciao ragazzi Ciao